Quasi mai così tanti arrivi sulle coste italiane. Il governo di Giorgia Meloni vacilla sui migranti. Le promesse fatte in campagna elettorale e che avevano portato al successo di frenare gli arrivi sembrano essere evaporate. Il punto della nostra corrispondente. Il governo di Giorgia Meloni è stato preso in Italia. Il governo di Giorgia Meloni è stato preso per la partecipazione di Giorgia Meloni. arrivi from Tunisia, where it cracked down on sub-Saharan migrants, but also good weather conditions are some of the reasons why so many migrants now decide to embark on the difficult journey. Now, opposition MPs have accused the Giorgia Meloni's government of a manifest failure in its management of immigration, even more so after Italy and the EU recently signed a memorandum of understanding with Tunisia, which provides over 100 million euros worth of direct EU aid to prevent migrants from reaching Europe. Giorgia Orlandi for Euronews in Rome.